pederica ti mando il link su whatsapp quindi i goblinacci non partecibano? no, niente goblin scusa, che cazzo vuol dire i dati salvati a parte con una versione di diabolo 3 poi segui il momento aggiornamento e non potranno più essere utilizzati accetto cazzo se ne prego ah, novità della patch si, che è un po' una merda vedi un po' sul portale come si vede ah, stai direttene sul portale? figo, quello è figo? ho la corona finalmente con essa puoi sbloccare la porta sigillata nella stanza dove mi hai salvato ed entrare nella cripta reale una volta trovato il re scheletro poni la corona sul suo capo se serve a trovare la stella caduta non posso farlo qui la profezia dell'ultimo c'è un monte vedo che lea ti... non so che... è bene la vicenda del portale è così ciao Federì mi senti? tutto bene? eh, lo so Federì su Puglia sono tristissimo però che vogliamo fare? vediamo un po' se la tipa va a tutte queste vediamo il giardino della cattedrale questo è un single player che è un single player non si può oh ma si vede HD? salve devo risettare lo schermo 2-5-1 mi divertirò non ancora ho bisogno di più collera serve pazienza la mia collera scarseggia non posso ancora farlo non ho abbastanza collera ho bisogno di più collera ah, avevo disattivato la monetizzazione qua che stiamo uscendo non ho abbastanza collera oh, vedo se ti fa parte la pubblicità prontà? la mia collera scarseggia non ancora non posso ancora farlo se parte l'addo non ho abbastanza collera non ancora serve pazienza vuoi pazienza? vuoi pazienza? ho avuto il giardino non ho avuto il giardino aspettate ma tutti domani come facciamo? non ci vogliamo? si va? non si va? la mia collera scarseggia la mia collera scarseggia poi c'è la sua vestigio poi c'era qualcosa di più pesante che non si va a stare quale? non quello che portavo no, no tengo a voler mettere la roba seria ho bisogno di più collere non ancora no, quello di Luca fa perdare ah, quello nero di Luca metto quello a culo basso a culo basso serve pazienza non ho abbastanza collera io la collera ce ne ho quante ne vuole ti investo la mia vedi invita amici sono amici sono già difficile se qualcuno vuole venire ho messo aperto al pubblico ah, ora vedete il inventario allora allora Grazie. Una di più colore. Quando tornammo dalla disastrosa sconfitta nella marca occidentale, il mio amatolino perse ogni apparenza di buon senso. Non posso ancora parlare. Un mille di rabbia, lanciandoci contro maledizioni e chiamandoci traditori. Un gran amore, mi scagliai contro lui. Un gran amore. Un gran amore. Grazie. Serve pazienza. Non ancora. La mia collera scarseggia. Serve pazienza. Non posso ancora farlo. Serve pazienza. Non ancora. Non ancora. Torno in città. No. Mi ha saluto di... No. Non ho bisogno difallerli. No. Non posso ancora farlo Ho bisogno di più colore Serve pazienza Serve pazienza Vediamo un po' che cazzo c'è dall'inventario che può essere utile Squarcio, incidendo la mia vicina il nemico Sperazione Vediamo 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 Non faccio ancora farlo. Non ancora. 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 Non anche. Non ancora. Non ancora. watching. Non ancora. Non ti permette di monetizzarlo Per pochi centesimi che è meglio di zero di Twitch Quello è il mio problema al momento Non posso ancora farlo Il culo non si ha combattuto, porco lui Aspetta Alla prossima Oh, siamo in tre Watching tre persone Chiunque tu sia, ciao Ah, sopra l'interno di indietro Mazz mauriglio non c'è anche da te Ah, eccoci Dunque la voce narrande che ti legge le quest è pure una figata Fa molto immersione, ti dirò Da questa parte Ecco le mie armi È libero Non lasciatelo riarmare Sono Kormak Guerriero dell'ordine templare Sei il re scheletro che cerchi Dovrai prima affrontare John Non c'è motivo di andare a caccia da soli Molto bene Quattro Gulo Top E' un'altra cosa che non so se ci spomette qui Che è una figata di là Per esempio Forse probabilmente la chat rimane collegata Ahi, come cazzo si chiama Ah, al video Bene, su Twitch c'è bisogno di un plugin Top Aumentano esponenzialmente Brutto delle cose così a caso E via così O comunque Sarà che sono a un livello intimo Come ho messo Giurinata la mia partita Non giurina nessuno Che è una palla A vero che questo è il casco dungeon core Si deve pensare un po' che devi armarti Vendere spell Entro Faccio La magia nera ci impedisce di proseguire Ma la volontà di un templare è più forte Ah, ok Tu vuoi andare qua Io voglio prima indagare di qui Se c'è C'è tipo un muro O un fossettone Ma non mi fa scendere Fanculo Scendiamo così Come erano C'è il negromante e l'aditore Comunque la traduzione italiana Mi fa dare un disco Non so a te Serve pazienza Non ancora Ciao a tutti gli ultimi arrivati Oh, a me ho scritto qualcosa Dico Ciao Stront Buono No Tu mi scrivi qualcosa Tu almeno Polve è accanto Se non le stai spacciando la cocagina No Non posso ancora farlo Non ancora Ti prego di perdonarmi La mia vista Era obnubilata Dalla magia malvagia Della congrega Il tradimento Non può essere perdonato Pol Non Ti sto a guardare Grazie Ti ringrazio Oh, c'è Brigantina Fortunata Che cazzo vuol dire? Oh, riprendi, riprendi Però nella caccia al re scheletro Ma ha una condizione Se troviamo i sacri tomi Del mio ordine Sono miei Se quei tomi Non sono essenziali Per la redenzione Del culto di Zaccarum Puoi averli Cazzo di voce che c'ho però Beh, c'ho un vocione Niente male Ho acquisito un seguace Sì, nel gioco Non Hai segnato? No, ho chiamato Fai Serve pazienza Non mi dovrei Adesso Dio, ma a me Serve pazienza Una cosa Mi irritano a morire Perisic Non posso ancora farlo Oddio, oddio, oddio Ma che mucchia la feriamo Sono appena vivi Sono possente Dice 30 uccisioni 40 uccisioni Insegnò loro Come sfruttare Serve pazienza In modo analogo A quanto facevano I neonati paladini Durante l'addestramento Ma A quel reclute A quei crociati Fu concesso Di attingere I poteri primordiali Di Zaccarum Cosa che nessun paladino Fu mai in grado Di fare Ok, allora Vediamo Le abilità Allora, per l'altro che ho Delle rune Stavo a rivedere Le cose Le hanno trovato Guerra E stavo a rivedere Stavo a rivedere Le cose Le hanno trovato Questo E stavo a rivedere E stavo a rivedere E stavo a rivedere E stavo a rivedere Sì, 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 sì. Ho tentato di tenere traccia di quanti ne ho spacciati, ma ho perso il colpo. Ora vado, maledetto dal mio sovrano, un tempo amato. Il male mi rode dall'interno. Non posso rischiare di mettere in pericolo Tristram nel caso in cui fallissi, nel contenere ciò che mi dilania. Devo addentrarmi nel labirinto e morire solo. L'oscura magia non faccio il culo alto, che cosa oscura qua. L'oscuro ci sta solo, la mia saccoccia. Non posso ancora farlo. Ecco, questo è una cosa che ti fomenta all'uggolo. Sì, sì, più agri arriva il ciccinomino Michelin. Il mio due asso, che si sta scaricando un'eggio. Un'eggio è un'eggio. Nel dropbox. Molto. Non. Non. non ancora ah no del dropbox no il dropbox la devi prendere dal last pass dai così volto due vai non non ha senso che lo vuoi anche mandarsi ogni tanto pechiamo qualcuno ma se ti dico che mi sta venendo a girarmi mi perdisic chi siete? pure pallins che sta a studiare non è Stategli lontano, questo fardello è destinato a me, che la morte di Araequi è la tua follia, Leonik. Anche se voi non lo farete. Non posso ancora farlo. Ma è così, ragazzo, facciamo un momento. Serve pazienza. Non ancora. Ok. Vediamo più spettatori dello streaming, ragazzi. Non posso ancora farlo. Vai così, vai così. Sì, non ci caglione, mi stai a prendere. Non posso ancora farlo. Ok. Non ancora. Siamo appena giunti a Tristram e devo dire di esserne un po' deluso. Questo luogo sperduto è pieno di servi della gleba. Ne ospita un monastero in rovina che non sarà mai all'altezza del re di Canduras. Non riesco a capire perché Lazarus voglia fare di questa cittadina il nostro nuovo centro di potere. Cosa devo fare? La devo fare? Quello ho messo solo di PSD. Quello mi ha fatto ieri. Solo di PSD. Eh, ho messo la di PSD sopra al... come si chiama... al box. Lo scuola invece. Ah, ci penso io. L'ho troppo io. Due minuti finito qua e te lo apro. Tutto, mi sembra che è abbastanza migliorato questo sistema. Anni luce da Twitch però... ...ehm... Super Combat Finale Non ancora Non posso ancora farlo Serve pazienza Dai cosi Non ancora Non posso ancora farlo Serve pazienza Non ancora Non mi cosi è da Serve pazienza Buca vita Sono questi o no? Posso ancora farlo Non ancora Serve pazienza Serve pazienza Non ancora Non ancora E siamo scesi a 3 alla fine Sai che sto a pensare di provarvi a fare proprio l'evento e dire che poi lo metto all'invisted In modo che come con le registrazioni, cioè poi me lo rigioco quando mi pare dal vivo Non posso ancora farlo Serve pazienza Non posso ancora farlo Non ancora E schiatta La fine del re folle L'uscita di Pinzoglio Ti ricordi quando Pinzoglio era nell'orbita Juve? Però non si vede male sai Beh era anche una parte del nostro pure che non si vede male Guarda quello là sotto C'è un dizzo da sotto ci devo pensare un po' a sta cosa di... Ho fatto un po' di... Ho fatto un po' di... Quello è una cosa della Power Move Cosa che è E vieni con me Non te lo sta a spiegare Capito? Quello dobbiamo mettere noi In chiuso? Ma quelli geli sono i valori importanti per quel ruolo Sì No? Dove facciamo? Finito qui Nuova Tristam Ciao Nuova Tristezza La stella non era che un uomo Soltanto un uomo Inizio a chiedermi se la sua caduta sia connessa alla mia crociata Progede solo Lo porterò dal vecchio saliente Puoi mettere... Che gli altri possono ingerare la tua Hai ingerato la tua L'ho visto il regalo per Gaccio 87 Chi cazzo è? Dono di Gaccio Ok, poi ci parlo Eh, praticamente Un saluto a tutti Ciao, ciao, ciao Ti faccio vedere Non vuoi che si è scaricato quello, vedi? Aperta al pubblico La partita Sì, se tu la vedi Murillo Mazz Murillo Dono di Gaccio 87 Chi ha partecipato con te Poi come è... Che cazzo non l'hai visto? Beh Sventura vampante Tu non hai idea di che cosa c'ho letto io? Che c'hai letto? È meglio che non te dico No? Che dire Non lo so Ok Interrumpo veramente Perché se no qua è la fine Perché se no qua è la fine Grazie.